Pontifex, it's the Pope built the bridge, costruttore del ponte, pontifex vuol dire costruttore del ponte, ponte, bridge, ponte between people and God, il ponte tra noi e Gesù, Dio, Peter, Pope, Padre, Padre, Ponte. San Pietro è stato l'unico Papa ad essere scelto da Gesù Cristo, non da altri, diciamo, come chiuso oggi da cardinali, eletto da Gesù. Elected by Gesù, Peter was only co-precious and elected by Gesù in Cels, not by other priests or cardinals. Pietra, son, Peter, means son. Gesù said, Peter, I will build my church upon you. And I give you the gift of the kingdom. Ok, le chiavi di cieli, e con questa pietra costruirò la mia pietra, e a te do le chiavi della regno dei cieli, ecco perché le chiavi a pietra. Va bene?